Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video del mio secondo canale. Recentemente abbiamo parlato spesso, ho parlato spesso nelle mie live, di cinema, di film, specie di film horror. Ho dedicato una bellissima live che ho fatto qualche tempo fa con Foria Rosa TV e Nino GFC. Per l'occasione, appunto, parlato proprio con Foria Rosa TV, abbiamo trovato un accordo per stilare una classifica ideale di 10 cattivoni dei film horror, quindi preciso solo film horror. Mettete fuori una bomba di classifica che adesso vi proporremo, io e Roberto, perché è una classifica pazzesca, con dei cattivoni pazzeschi che sono entrati un po' nell'immaginario collettivo dei cattivoni per eccellenza. Quindi un appuntamento da non perdere, chiaramente vi invito a guardare tutto quanto il video, alla fine del quale chiaramente aspetto qui sotto i commenti con la vostra top 10 dei cattivoni dei film horror. Direi che possiamo iniziare. Vai! Al decimo posto, la cosa. Praticamente avete provato, mai provato ad avere vicino una persona di cui vi fidate e che vi fa stare bene? Ecco, la cosa andava a toccare quella paura lì, quella di non potervi più fidare di nessuna persona, in quanto questo alieno mutabile, protagonista appunto del film La Cosa, di Joel Carpenter, questo alieno mutabile rendeva cattivo, quindi copiava completamente le persone di cui più vi fidavate. Quindi una paura tremenda e uno dei peggiori cattivi del cinema horror. Nono posto, abbiamo scelto Leatherface, faccia di cuoio. Perché? Perché? Intendo perché è un cattivone di una saga pazzesca, quando non aprite quella porta, che è culminata con il film del 2017, che è un prequel Leatherface appunto del 2017, quindi tre anni fa, praticamente un film recente, è una saga lunghissima, più o meno tra reboot, sequel, prequel, sono più o meno quasi una decina di film. Detto questo, Leatherface però ha un piccolo particolare, una variabile che lo rende diverso da altri cattivoni, perché ci sono dei cattivoni che sono consapevolmente cattivoni, dei cattivoni che non lo sono, perché come nel caso di Leatherface, che ha appunto un ritardo mentale, e questo ritardo mentale lo porta a uccidere solo, secondo la sua testa, in qualche modo danneggiata, solo per difendere se stesso e la sua famiglia. Una famiglia che riscopre lo classico stereotipo della famiglia dell'America centrale, dispersa nella casa in mezzo a nulla, però al di là di questi stereotipi che di per sé, negli horror, nei film americani, sono molteplici. Chiaramente per Leatherface c'è questa piccola postilla, uccide per un motivo effettivamente, non dico che sia, insomma, condivisibile, ma comprensibile, ha dei problemi mentali, questi problemi mentali lo portano, con questa mascherona grande, grossa e forte con me, a uccidere perché si sente minacciato, quindi è una cosa così molto semplice, ma che in realtà porta veramente un baio di sangue totale in tutti i film che conosciamo, però chiaramente va inserito in una top ten ideale. All'ottavo posto Norman Bates, il cattivo di Psycho, probabilmente il miglior personaggio uscito fuori ad Alfred Hitchcock nella sua lunga carriera cinematografica, un personaggio che incute timore e fa soprattutto pensare quanto può arrivare, può spingersi lontano la psiche umana. Al settimo posto ci metto uno dei cattivoni che io preferisco, chiaramente al settimo posto perché la classifica è condivisa, però io preferisco questo cattivone così come i film, alcuni film precisi e la saga in generale. Parliamo di Jigsaw, che è il cattivone, insomma, della saga dei Saw, sull'Enigmista e tutti gli altri. Perché lo preferisco? Perché intanto è un cattivone umano e perché al di là di poi quello che può essere la ripetitività dei film, un po' alla volta diventa anche, si scade un po' nel ridicolo, come si sa, però è anche vero che dietro a questo film horror c'è di per sé anche un ragionamento, un po' chiaramente estremo, al limite, però effettivamente pogge su delle basi, su delle spiegazioni logiche, diciamo, per quanto siano poco logiche, sono tutti già diversi e quindi mi apprezzo molto questa cosa qua. Jigsaw, altro non è che un signore, tra l'altro l'attore è fantastico perché è veramente diabolico lui stesso, credo anche nella vita normale, è un attore che interpreta un personaggio che è malato di cancro terminale, morirà anche durante la saga. Un malato di cancro terminale ha il cervello, cervello che usa in realtà perché è una spiccata intelligenza, quindi se dovessimo trovare un'abilità particolare di questo cattivo è l'intelligenza di per sé di ricostruire delle scenarie in cui mette delle persone che devono in qualche modo superare delle prove molto macabre per in qualche modo portarle in una sorta di redenzione, sono tutte persone che non hanno voglia di vivere, che nella vita ci sono fatti del male, tossicodipendenti, altri tipi di violenti e così via. Persone che quindi hanno sempre detestato la prima vita e che sono in situazioni di così grande difficoltà e violenza devono mettersi alla prova loro stessi per vedere se effettivamente sono degni o non degni di vivere. una logica chiaramente macabra e estrema, ma che di per sé ha un senso se poi guardiamo un po', ed è per quello che poi piace come film, perché in realtà fa pensare allo spettatore stesso quanto sia importante nella vita, cioè se fossimo noi in condizioni di difficoltà ecco che tutti i problemi di cui ci siamo in modo presi carico diventano nulli di confronto a quelle che sono delle scene chiaramente molto violente e un po' all'estremo. Il primo film è sicuramente un cult, il cult del cult, quella famosa scena in cui si taglia la gamba con segreto, a di là di questo il personal jigsaw secondo me è tra i migliori cattivoni dell'horror di sempre. Al sesto posto il cattivo di Halloween, Michael Myers, uno dei peggiori cattivi, uno dei più spaventosi assassini della storia del cinema horror e sicuramente uno di cui bisogna avere molta molta paura. Lui col suo fedele coltello sono veramente pericolosi e fanno veramente paura. Nel caso in cui abbiate appena finito di mangiare non vi consiglio di mettervi ora la visione di un film con come protagonista Hannibal Lecter perché chiaramente parliamo di cannibalismo, il cannibale più importante nel senso importante, più famoso diciamo così importante, sempre quello che sia importante a essere cannibali, della storia del cinema. Interpretata almeno per la versione che mi ricorda di più da Anthony Hopkins, un personaggio, un attore favoloso che io ricordo in molti altri film perché è un personaggio che a me dà sempre molta inquietudine, cioè è un personaggio inquietante di per sé da solo, a prescindere dal ruolo che fa. Se poi lo mettiamo a fare uno dei cattivoni più celebri dei film horror come Hannibal, chiaramente allora si passa a una dimensione veramente di... non si capisce chi è l'attore e chi è invece il personaggio rappresentato. In ogni caso Hannibal Lecter è passato la storia per essere un cattivone enorme perché è appunto un cannibale di per sé vicino delle persone senza azia, quindi di per sé è una cosa che ha del macabro, sicuramente. Dei film memorabili che sono diventati dei cult, nonostante inizialmente fossero i film con Anthony Hopkins come Hannibal Lecter, dei film giudicati e criticati per la violenza inaudita, chiaramente in tempi in cui questa violenza non era molto mainstream, adesso di film violente ce ne vanno tantissimi e non vengono in questo modo criticati, però al tempo era sicuramente un film che è fatto a scalpore. Quindi Hannibal deve per forza di cosa entrare in una top ten e ce la mettiamo in questo caso al quinto posto, quindi a metà della nostra classifica ideale di 10 cattivoni. Al quarto posto uno dei personaggi più geniali della storia del cinema horror, Pennywise. Pennywise di It va proprio a toccare uno delle persone su cui da bambino fai maggiormente affidamento il clown, che è simpatico e carino, lui no, lui ammazza i bambini, lui li mangia e li sputa fuori. Attenzione, fa molta paura, ha sconvolto, soprattutto nello sceneggiato dei primi anni 90, gran parte dell'adolescenza di molti molti ragazzi. Terzo posto, iniziamo al podio. Io finora ho parlato di personaggi, di persone, cioè di personaggi di cattivoni che sono persone normali di per sé, insomma non è normale essere né cannibali né avere dei ritardi mentali che portano a uccidere, niente o meno fare giochi così maccabri, però sono persone che sfruttano le proprie doti fisiche, normali, umane e quelle mentali come Jigsaw. Però in questo caso passiamo a uno step successivo, in cui non c'è nulla di umano perché parliamo di alieno. Tra i cattivoni, uno dei cattivi che più apparezzo, quindi parliamo di cattivi alieni, quindi extraterrestri, quindi non umani, è Alien. Alien non è altro che un parassita che conosciamo per la prima volta nel film Alien del 79, condotto appunto da Ridley Scott che è veramente un signor cinema appunto, e abbiamo un Alien che è un alieno, un xenomorfo, lo xenomorfo entra nel vocabolario di tutti noi grazie a questa cosa qua, quindi morfo da forma a xeno appunto di alieno, quindi xenomorfo in qualche modo è un parassita che si nutre, o meglio si nutre appunto quando il parassita si riduce nel corpo umano per poi chiaramente diventare quei mostroni enormi, bruttissimi, che poi tra l'altro sono anche ben ragionati, perché dietro a questo Alien ci sono, dicono, non suppongono ci siano anche dei riferimenti ad altre cose nella vita reale, come addirittura lo stupro, piuttosto che appunto i Vietkong, quindi ci sono particolari ragionamenti intorno alla figura dell'Alien, ma che diventa un cult e forse l'alieno più temuto da tutti, chiaramente non esiste per fortuna perché è un po' bruttino, un po' pericolosino, però il cult di Alien è sicuramente qualcosa di conosciuto da tutti gli amanti del genere, ma anche no, perché sicuramente tutti hanno ben in mente cosa sia l'Alien e quindi anche lo xenomorfo. Se lo mettiamo su questo podio, perché qui la zona è molto calda, iniziarla con un personaggio, con un parassita, con una forma in mente del genere, non può essere che d'obbligo. Al secondo posto, uno dei protagonisti di una delle serie a me preferite, Nightmare, cioè Freddy Krueger. Freddy Krueger ammazza anche lui i suoi detrattori, ammazza anche lui i ragazzi, ma non lo fa andando a ammazzare in giro la gente con un coltello, con un macete, come fanno molti cattivi degli altri film, no, lui ammazza nei sogni, dove tu, che stai guardando, ti senti più sicuro, perché dici, quando dormo, sono sicuro che non verrà nessun assassino colpirmi. Freddy Krueger no, ti va a prendere proprio proprio lì, ed è per questo che fa così paura. Al primo posto ci mettiamo un uomo, ho fatto riferimento prima, qualche posto ne fa, alla bravura di Anthony Hopkins per rappresentare Hannibal. Adesso voglio fare un applauso alla bravura di Jack Nicholson a rappresentare appunto un personaggio che è umano, Jack Torrance di Shining, un film diventato un cult, un cult del cinema horror, non l'horror di Alien, non l'horror di Halloween, un horror diverso chiaramente, e viene esaltata in quella che è la figura di Jack Nicholson, che è un attore pazzesco, che ha fatto veramente tantissime parti, tutte diverse, viene esaltata la furia omicida di questo personaggio, che dopo che hanno vissuto, che dopo quella famiglia ha vissuto all'interno di questo hotel vuoto per farlo da guardiano, scatta in lui qualcosina, appunto per queste presenze, qualcosa di strano, che poi verrà anche spiegato dopo nel film recente, Doctor Sleep, che è una sorta di sequel di questo film, è un film pazzesco, perché Jack Nicholson si immedesima in un personaggio che viene appunto veramente preso da questa furia omicidia che porterà a uccidere la famiglia stessa, quindi la bravura di Jack Nicholson è talmente alta che la scena stessa all'interno di un film cult è diventata ancora più cult che la scena in cui sfonda la porta con questo coltello, quindi la faccia che esce dalla porta spaccata è una scena che è tutta memorabile e che noi non conosciamo. E credo che per questo motivo, per la scena, ma per l'attore, e per il film in sé, credo che sia un cattivone che ha fatto sicuramente meno vittime, però i motivi di molti di quelli che abbiamo già menzionato, sicuramente meno di Alien, meno di Michael Myers, meno di tutti quelli che abbiamo menzionato, forse è quello che ha fatto meno vittime. Però diciamo che per la sua figura di cattivone, per la sua figura, per il suo diventare cult come personaggio, come film in per sé, meriti la prima posizione, almeno dal nostro punto di vista la merita da tutti i punti di vista, veramente è opinabile, però penso che senza Jack Nicholson e senza chiaramente questo film, il cinema sarebbe un po' più povero, diciamo. Quindi il film, sicuramente, di Stanley Kubrick è pazzesco e diciamo che è una sorta di simbolo del cattivo, dell'horror, un horror particolare, molto inquietante, molto ragionato su tutti i dettagli anche della fotografia e dell'immagine, quindi non può che esserci appunto Jack Torrance. E chiaramente il tutto, ripeto ancora una volta, se non fosse chiaro, con un pazzesco Jack Nicholson che in quegli anni ha fatto dei film che sono importantissimi, penso anche qualcuno volò sul nido del cupolo, quindi andava messo, andava messo per forza di cose. Siamo giunti al termine di questa carrellata di 10 cattivoni, la nostra top 10 dei cattivoni di film horror, horror che spaziano, come avete visto, di tutti i tipi di horror, perché l'horror di per sé è fatto di splatter, è fatto di film basati sull'inquietudine, sulla psicologia, invece è molto variegato, ma comunque resta in un ambiente, in un genere catalogabile come horror. Quindi questi sono i nostri 10, vi invito chiaramente nei commenti a scrivere la vostra top 10 dei cattivoni dei film horror e vi avviso già che appunto con Fori Rosa TV, con il quale stiamo collaborando, usciranno altri due top 5 in realtà, piccolini, con altri cattivoni, quelli dei cinecomics, dei cartoon, quindi la zona un po' tra cartoon animati e tra supereroi, quindi i villains, e invece una top 5 per i cattivoni rimanenti, tutti quei cattivoni che sono facenti parte di altri film che non sono né horror né i cinecomics, quindi non vi dico nulla, non vi spoilerò nulla, però avete capito a cosa potrei andare a parare, insomma. Ringrazio quindi Roberto per la collaborazione, lo vedrete chiaramente anche nei prossimi video, ma che non saranno in questo canale, quindi nel mio canale, ma nel canale appunto di Fori Rosa TV, quindi per i prossimi video andate a vederli lì. Vi ringrazio per avermi seguito, come sempre vi auguro buona giornata e alla prossima. Ciao!